astri rispetto alla spesa pubblica devono essere modificati. I vincoli europei, quel tipo di idea dell'Europa fondata essenzialmente su una base monetaria, fondata essenzialmente su un'ipotesi che riproduceva questo tipo di sviluppo, sono vincoli che oggi non possono che essere messi in discussione. Non è possibile che le risorse pubbliche ci siano se c'è da salvare il sistema finanziario, se c'è da fare altre operazioni di altra natura che vanno in altra direzione, ci sono i vincoli europei e le risorse pubbliche non si possono utilizzare e si devono fare i tagli. Ma questo vuole dire che diciamo a Governo e Confindustria che è insensato e sbagliato e miope opporsi ai vincoli determinati in Europa in termini ambientali, tanto più in un Paese come il nostro, dove è tra le città più inquinate d'Europa. Certo, anche l'ambiente è un costo, ma è un costo positivo, è un costo importante e decisivo per guardare il futuro. Non possono considerare tutto ciò che non sia la pura produzione un costo. Se ci sono gli infortuni mortali e bisogna intervenire sulla sicurezza sono un costo, se bisogna intervenire sull'ambiente sono un costo e loro chiedono semplicemente risorse a pioggia nei confronti delle imprese. Ecco, in questo caso noi diciamo no all'intervento pubblico, diciamo no alla spesa pubblica indifferenziata. Ma se questo è un ragionamento anche di prospettiva, noi abbiamo, tutti noi, e lo diciamo, com'è che si dice serenamente, paccatamente, e lo diciamo a tutti, guardate che dato che questa crisi non è breve, e insisto, non è la recessione del 2002-2003, sta arrivando una marea di cassa integrazione. Ogni giorno abbiamo l'annuncio di una fabbrica che chiude, nel migliore dei casi solo una. Esiste un problema di emergenza sociale. Cosa succede nei prossimi mesi? Cosa succede questi mesi che ci rimangono del 2008 e del 2009? Si prospetta una situazione dove le imprese già stanno decidendo, con una marea di cassa integrazione che significa centinaia di migliaia di lavoratori metalmeccanici che non arrivano a 800 euro al mese. Allora quando succede per un mese, quando succede per due mesi, ma quando si corre il rischio che succeda per cinque, sei mesi, ad un certo punto semplicemente la gente non riesce ad arrivare alla fine del mese. Nello stesso tempo, i precari, tempo determinato, interinali, gli apprendisti che non hanno la cassa integrazione, i contratti a progetto, con l'arrivo della cassa integrazione a migliaia, li stanno facendo uscire dalle fabbri. Nell'industria, nel settore metalmeccanico sono circa 200.000. Se calcoliamo gli altri settori industriali, se calcoliamo quello che è previsto nella finanziaria, per quanto riguarda i ricercatori, il pubblico impiego, non credo di essere lontano dalla realtà nel dire che abbiamo da 400 a mezzo milione di precari a cui viene prospettata la cessazione del rapporto di lavoro. E poi le crisi aziendali, la chiusura delle aziende con i licenziamenti, insomma, è un quadro socialmente esplosivo. Per questo, noi tra i nostri obiettivi che lanciamo nella giornata di oggi, diciamo esplicitamente che assieme a misure che guardano al futuro e alla prospettiva di fuoriuscita della crisi, c'è bisogno di aprire un'avvertenza, un confronto a tutto campo con il governo per costruire una rete di emergenza sociale, una rete di protezione sociale che sia fondata su un elemento, su un valore fondamentale, come tenere uniti l'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, come far vivere anche in una situazione di crisi la solidarietà nei rapporti dell'insieme del corpo del mondo del lavoro. E allora diciamo che gli ammortizzatori sociali, tutti, cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione straordinaria, indenità di mobilità, tutti gli ammortizzatori sociali devono essere estesi a tutto il mondo del lavoro dipendente, sia per dimensione d'impresa, sia per tipologia di rapporto di lavoro, fino ad arrivare ai contratti a progetto. Non è possibile negare il futuro. A chi verrà lasciato tenteranno di lasciare a casa in queste settimane, alla gente che non arriva alla fine del mese. Non è possibile prospettargli soltanto un'idea che guarda in avanti. C'è un problema che riguarda anche i prossimi mesi. E diciamo che le risorse pubbliche, così come le hanno utilizzate per le banche, devono essere utilizzate a fronte dell'emergenza sociale che abbiamo. Nello stesso tempo, assieme all'estensione degli ammortizzatori sociali, diciamo anche che vanno tolti i vincoli che sono stati definiti sui massimali della cassa integrazione. Bisogna tornare a quello che era il meccanismo precedente della cassa integrazione dell'80% rispetto alla retribuzione. Prevedendo anche una detassazione particolare e specifica che abbia le caratteristiche di un intervento di rafforzamento a livello sociale. Ma i soldi non ci sono. Allora diciamo così, noi non ci stiamo a farci prendere per il cosiddetto. Non è possibile che in una fase di crisi dove ragioniamo di cassa integrazione e ragioniamo di precari che non hanno il lavoro eccetera, loro fanno la detassazione degli straordinari. È una presa in giro. È una beffa rispetto ai problemi che abbiamo di fronte. Tolgano la detassazione degli straordinari, non ce ne frega niente. Noi chiediamo un utilizzo delle risorse pubbliche legate ad un concetto di solidarietà che valga per tutti i lavoratori dipendenti. E poi, non è possibile che se un lavoratore straniero viene licenziato diventa clandestino. Non è possibile. Chiediamo che questo punto della bossi fini venga modificato perché noi consideriamo i lavoratori stranieri come i nostri fratelli, come i nostri compagni di lavoro. Non stiamo rilanciando, che pure potremmo farlo, un'abolizione della legge bossi fini. Stiamo discutendo di misure di emergenza. E le misure di emergenza oggi significano che se il nostro compagno di lavoro viene licenziato o entra nel meccanismo dell'indennità di mobilità, gli cessa il permesso di soggiorno e diventa un clandestino. Questa è una barbarie. È una barbarie che noi dobbiamo rifiutare. Infine Grazie 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 a tutti.